buongiorno ragazzi benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero oggi andremo a vedere qual è l'energia che maggiormente caratterizzerà questa giornata e andremo anche a vedere tramite i consigli dei nostri angeli quale sarà il modo migliore per gestirla per canalizzarla e per utilizzarla in modo costruttivo quindi ecco che mescoliamo il nostro mazzo di tarocchi universali reader white che è quello tra l'altro che consiglio a tutti per iniziare ed è scappata la prima carta come vi dicevo i tarocchi reader white cioè questi sono quelli che io consiglio non solo ai miei studenti ma anche a quelli che vogliono iniziare a imparare da autodidatti a leggere i tarocchi perché sono essendo tutti figurati ed essendo comunque avendo una grafica molto chiara sono anche abbastanza intuitivi ma vediamo che l'energia di oggi sarà un 3 di spade rovesciato che bello allora questa energia può essere canalizzata in due modi e qui sta a voi essere furbi essere bravi e canalizzarla nel modo giusto perché può essere canalizzata o come un rilascio di emozioni negative che finalmente vengono abbandonate finalmente ci si lasciano alle spalle queste emozioni negative finalmente ci si riprende da una fase difficile si ricomincia star bene si ricomincia a vedere il mondo a colori a considerare il bello della vita a a pensare che appunto esiste una luce in fondo al tunnel quindi questa carta è dedicata soprattutto a quelli di voi che hanno vissuto delle difficoltà ultimamente e che hanno attraversato dei periodi particolarmente bui nei quali magari hanno si sono anche sentiti scoraggiati all'idea di un futuro all'idea di non riuscire a rivivere emozioni di gioia invece il 3 di spade rovesciato rappresenterà per moltissimi di voi la possibilità di lasciare andare finalmente queste emozioni basse e quindi di smettere di soffrire smettere di piangere finalmente ritornare in se stessi ritrovare la propria centratura ritrovare la voglia di vivere la voglia di fare la voglia di gioire e di godersi la vita e andare avanti quindi per quelli ad esempio che hanno chiuso una relazione e che hanno sofferto per questo ecco che finalmente iniziano a si può iniziare a riaprirsi al mondo per quanto sia possibile in questo momento farlo in italia apritevi ma non troppo per quelli di voi che invece hanno attraversato una fase buia dal punto di vista economico ecco che adesso alcune preoccupazioni finalmente verranno meno per quelli di voi che hanno invece affrontato difficoltà familiari ecco che anche queste inizieranno piano piano a perdere i loro colori oscuri ma inizieranno ad illuminarsi dunque di qualunque cosa si tratti questa può essere un'energia molto bella se canalizzata bene invece invece purtroppo questa energia se non viene affrontata nel modo giusto e davvero tutti voi che state guardando questo canale che state guardando questo video approfittate di quello che state ascoltando oggi proprio per permettervi di canalizzarla nel modo migliore possibile perché se non la canalizzate bene questo potrebbe provocare invece una resistenza al cambiamento e la resistenza al cambiamento cioè il non accettare le cose così come sono il non riuscire ad accettare determinate situazioni il non volere vedere la realtà per quello che è può provocare non una fine delle sofferenze ma semmai un peggioramento più noi ci accaniamo nel volere le cose fatte in un certo modo quando non è possibile più noi stiamo male invece ciò che tutti ci consigliano guru esoteristi psicoterapeuti counselor coach ecco chiunque lavori nell'ambito della psicologia della crescita personale non può far altro che confermarvi che il resistere al cambiamento è ciò che in realtà provoca dolore il fluire insieme al cambiamento e accettare le cose così come sono invece è ciò che ci permette di andare avanti in modo sereno in modo fluido naturale e in armonia con ciò che ci circonda in armonia con il nostro essere più vero più intimo con la nostra anima e anche con il mondo della natura se noi esseri umani non fossimo così alienati dai cicli naturali se noi non vivessimo in centri abitati artificiali totalmente artificiali ecco che noi saremo ancora come gli uomini primitivi che vivevano in perfetta armonia con la natura e che lasciavano davvero fluire le loro difficoltà in modo consapevole in modo sciolto e quindi quando stavano male il dolore non durava mai troppo ma erano semplicemente delle fasi che presto finivano perché la vita andava avanti perché la vita continuava a fluire così come dopo l'inverno c'è sempre la primavera invece noi esseri umani a volte ci troviamo in inverno e continuiamo a far nevicare perché non vogliamo accettare quell'inverno finché noi non accettiamo l'inverno non smetterà mai di nevicare non inizierà mai a far caldo quando noi accettiamo che esiste anche l'inverno ecco che arriva la primavera questo è un po il senso che da questa carta dovremo tutti prendere quindi ecco che abbiamo una grande possibilità di lasciare andare dolori sofferenze e problemi e finalmente muoverci verso una gioia di vivere e adesso vediamo un po qual è il consiglio angelico per la giornata di oggi e vediamo qual è il modo migliore per lasciare andare queste energie per andare avanti verso un futuro più bello perché la vita è sempre evoluzione quindi anche se non sembra si va si va sempre perso un qualcosa di meglio ed ecco che l'arcangelo michele ci mette davanti la ruota della fortuna ovviamente perché quando gira il vento è la ruota che sta girando quando le cose iniziano ad andare meglio è la ruota che sta girando verso per il verso giusto e infatti ci dice che è tempo di cambiamenti positivi e che una situazione nella quale voi magari vi sentirate vi sentivate un po oppressi un po impotenti ha degli sviluppi improvvisi dunque questo potrebbe accadere oggi per molti di voi oppure potrebbe essere appena accaduto nei giorni precedenti oppure potrebbe accadere nei giorni immediatamente successivi perché essendo una lettura generica questa in realtà sta manifestando l'energia il picco energetico che sarà nella giornata di oggi ma comunque per qualcuno di voi sarà più diluito nel tempo quindi un po prima un po dopo ad ogni modo la fortuna è dalla vostra parte l'arcangelo michele lo sta dicendo chiaramente quindi aspettate semplicemente il vostro momento perché la ruota sta girando e per molti di voi girerà proprio oggi anzi per quelli di voi per cui la ruota girerà proprio oggi scrivetemi per favore nei commenti che cosa di bello vi sta accadendo quale cambiamento sta caratterizzando la vostra vita in questo momento è bello condividere i momenti positivi in questi giorni ce n'è veramente bisogno perché sto notando nei social network che io ovviamente uso anche per lavorare sto notando che c'è una una forte negatività nell'aria e questa negatività non fa altro che creare delle forme pensiero di tipo negativo quindi di vibrazioni basse ed è ovvio che essendo noi creatori della nostra realtà nel momento in cui immettiamo delle forme pensiero con frequenza e vibrazione bassa o comunque amplifichiamo delle forme pensiero già grandi già esistenti di certo non facilitiamo le cose per nessuno invece è arrivato il momento per quelli di noi che possono farlo di iniziare a mettere nell'aria un po di positività un po di gioia chi ce l'ha in questo periodo che la doni un po agli altri che si preoccupi anche di alzare la frequenza di chi gli sta attorno di chi gli sta accanto e soprattutto chi avrà la fortuna di vivere questi cambiamenti positivi e soprattutto di rendersene conto perché molte volte noi non apprezziamo quello che accade mi raccomando alzate la frequenza per voi per chi vi sta intorno per le vostre famiglie e godetevi il cambiamento positivo ad ogni modo per avere una sessione privata come vi dicevo sito internet www.vocidagliangeli.com email vocidagliangeli chiocciolagmail.com e ci vediamo a domani